Era attesa e finalmente è arrivata. Questa notte sono scesi anche nell'Aretino infatti i primi fiocchi di neve tra le prime località ad essere imbiancate all'Alpe di Poti dove ci troviamo in questo momento. Nevicate anche in Valdichiana e Valtiberina, una leggera spruzzata di neve ha infatti imbiancato anche le località di Cigiano e Civitella in Valdichiana. Altra vallata ma solito incantato scenario, qui ci troviamo a Caprese Michelangelo che come per magia questa notte ha cambiato volto risvegliandosi così coperto da una leggera coltre bianca. Risveglio innevato anche lungo la E45 dove l'obbligo di catene o pneumatici invernali era già scattato lo scorso 15 novembre, essendo uno dei tratti più esposti al rischio di precipitazioni nevose e ghiaccio. Al momento non si sono comunque registrati disagi dovuti a quest'ondata di maltempo. Non solo neve nell'Aretino ma anche freddo pungente. Da alcuni giorni la provincia è infatti nella morsa del gelo. A Palazzo del Perro è stata registrata una temperatura minima di meno 8,7 gradi, la più gelida dell'intera Toscana. Non va molto meglio nemmeno a Dortignano dove la colonnina è scesa a meno. Nella morsa del gelo anche altre località dell'Aretino. A Monterchi la minima ha infatti toccato meno 7,3 gradi e a Poppi meno 6,1. Ben sotto lo zero le temperature anche in Val di Chiana meno 5,6 gradi accesa e meno 4,6 a Monte San Savino.